buongiorno bianconeri bentornati siamo al 23 di marzo e mai avrei detto nella mia vita di fare un video di calcio mercato il 23 di marzo questo vuole essere un video dove parliamo un attimino insieme del perché stiamo leggendo da diversi giorni dall'eliminazione della champions league soprattutto a oggi una marea di nomi manco fossimo a giugno manco fosse iniziato il calcio mercato perché perché direte voi così tanti nomi ma io mi sono fatto un'idea ragazzi ci sono due motivi principali per cui in questo momento il calcio mercato della juventus è nell'occhio del ciclone ed è così pompato sui social e sui giornali il primo motivo è molto pratico l'eliminazione della champions league e poi questo mega booster del mancato rinnovo paolo di bala creano quasi un obbligo morale da parte della juventus di tenere buona la propria piazza i propri azionisti i propri tifosi facendo capire che non è una società allo sbando che dobbiamo essere positivi e che dobbiamo sorridere sapendo che la juventus ha tutte le intenzioni di potenziarsi quest'estate quindi il primo motivo è questo viste le cocenti delusioni sul campo e a livello di della perdita del nostro numero 10 tanto amato e per come sono andate le cose sappiamo tutti un rinnovo molto amaro gestito male ne abbiamo già parlato alla nausea di questa cosa loro fanno uscire notizie voci nomi sui giornali il secondo motivo è che c'è proprio una necessità c'è proprio una grande necessità da parte della juventus di farlo questo mercato quindi non sono delle bugie belle buone è veramente una necessità fisica che la juventus ha di costruire uno squadrone pazzesco come vi ho sempre detto e sono mesi che ve lo dico ancora prima di vivere questa settimana di delusioni la juventus nel 2022 2023 arriverà al centenario della presidenza della famiglia agnelli e ci vuole arrivare con una squadra pazzesca con una squadra super competitiva questo ve l'ho sempre detto ragazzi ed è la grande verità i soldi ci sono ne abbiamo già parlato ne riparleremo ancora i soldi ci sono e sono anche tanti perché la juventus è stata brava quasi ad azzerare i propri debiti è rimasto pochissimo di debito pochissimo abbiamo tantissima liquidità e quindi abbiamo molti molti soldi per il mercato se volete saperlo circa 100 milioni di euro possono essere spesi per il mercato quest'estate 100 milioni escludendo eventuali riscatti di chiesa di morata ed escludendo quello che è stato fatto a gennaio perché sono soldi che sono già stati messi a bilancio in un'altra voce 100 milioni che non vuol dire da pagare subito per il cartellino intero di un giocatore perché come ben sapete ormai seguendo me e tanti altri che vi parlano di calciomercato i cartellini dei giocatori sono spalmati negli anni quindi un giocatore che costa 70 milioni ne dai 20 20 20 e altri 10 in quattro anni l'hai pagato quindi quest'anno dovremmo pagare solo 20 non 70 per quel giocatore lì vi ho fatto proprio un esempio terra terra con questa consapevolezza io penso che la juventus si stia già muovendo perché voi dovete sapere che quando si fa il mercato in estate non è che le trattative iniziano a giugno ovviamente bisogna muoversi un po prima e marzo è un mese chiave perché le stagioni stanno andando verso la conclusione ci sono anche tanti parametri zero in giro da cui attingere eventualmente e poi bisogna cominciare a mettere in piedi le trattative i tavoli di discussione con i giocatori con i loro agenti e con le squadre di appartenenza assolutamente però ragazzi io penso anche che tutti questi nomi che stiamo leggendo sui giornali molti siano da depennare nel senso che l'invito che faccio a tutti coloro che come me amano molto il calcio mercato di non diventare scemi non cerchiamo di non farci tirare scemi dai giornalisti molto spesso tantissimi giornalisti non sanno niente ragazzi ma niente 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 non lo sanno neanche di conseguenza insider di mercato tutti tutti coloro che vi danno notizie giorno dopo giorno attenzione prendete sempre con le molle queste cose e non diventate appunto scemi perché in questo momento ci sono una quindicina di nomi che vengono associati alla Juventus così a memoria mi vengono in mente Bremer, Rudiger, Koulibaly, Windal, Cambiaso, Udoji, Renan Lodi, Giorginho, Milinkovicavic, Pogba siamo a 10, De Jong 11, Zagnolo, Berardi, Raspadori siamo a 14 vado avanti aspetta che è che manca ah sì certo Joao Felix novità di ieri sera Salah poi siamo già a 16 ma potrei andare avanti forse mi dimentico di qualcuno aiutatemi voi a parte gli scherzi sicuramente molti di questi che ho nominato sono degli obiettivi reali la Juventus ha chiesto informazioni sta cominciando a mettere avanti le mani per cercare di capire la fattibilità molti di voi mi stanno scrivendo Dan hai conferme su Salah? Hai conferme su Joao Felix? Io nel mio piccolo dico sempre no io non ho nessun tipo di conferma siamo al 23 di marzo conferme non ce ne possono essere in questo momento quello che ci può essere sono voci interessamenti trattative iniziate ma conferme lo chiedete a me poi chiedetelo pure ad altri che saranno sicuramente più ferrati di me avranno notizie più calde delle mie però io conferme in questo momento non ne posso avere ragazzi a parte gli scherzi 16 e più nomi associati alla Juventus nell'ultima settimana però vorrei ricordare a tutti voi quali sono i ruoli che la Juventus deve andare a ricoprire quest'estate e allora parliamo insieme i ruoli sono sei sei minimo allora il difensore centrale abbiamo preso Gatti che probabilmente verrà la Juventus in prima squadra ok non non verrà ceduto girato in prestito a qualcuno ma abbiamo un grosso problema sia con chiellini che è completamente finito fisicamente che con Bonucci che come vedete ha dei seri problemi fisici sta mancando tantissimo questa stagione quindi va bene Gatti che può essere diciamo sostituto di un chiellini o di un rugani a livello di ruolo ma attenzione che dobbiamo prendere un altro difensore centrale il difensore centrale può essere Rudiger che è il nome più caldo può essere Bremer che è uno degli obiettivi che la Juventus si era posta però c'è una grande competizione dell'Inter al riguardo o può essere Coulibaly io sinceramente Coulibaly non lo prenderei proprio in considerazione ok quindi primo ruolo di questi sei necessari ve ne ho parlato il difensore centrale proprio per andare a sostituire anche forse Bonucci attenzione ragazzi a quello che vi sto dicendo non diamo per scontato che Bonucci continui rimanga sia sempre titolare perché l'età è quella che è il fisico si sta dimostrando quello che è ok l'altro ruolo è il terzino sinistro come ben sapete Alexandro è assolutamente un giocatore da vendere l'hanno capito finalmente dopo tutti i nostri insulti anche a Torino ok abbiamo bisogna capire cosa fare con Pellegrini bisogna ancora capire Desciglio che però molto poliedeco secondo me alla fine rinnoverà ad ogni modo diamo per scontato che Alexandro possa essere ceduto e allora a quel punto la Juventus ha bisogno del terzino sinistro qua i nomi ve li ho fatti prima può essere Renan Lodi Windal Udogi Cambiaso anche se questi ultimi tre che vi ho detto non sono tipicamente titolari in una Juve ok quindi di tutti questi forse Renan Lodi è quello con molta più esperienza non lo so se sarà lui o se la Juve ha in serbo qualche sorpresa però il secondo ruolo vacante facciamo così con le ditine è il terzino sinistro il terzo ruolo facciamo così che facciamo prima il terzo ruolo vacante è quello del play barra regista basso e allora si è parlato tanto di De Jong poi sembra che De Jong si sia riavvicinato a Xavi al gioco di Xavi in questo momento il Barcellona è ritornato a essere ottimo perché aveva iniziato malissimo con Koeman ma quindi insomma De Jong difficilissimo eccetera eccetera allora tanti mettono in pole position in nome di Giorginio in attesa di capire la situazione del Chelsea che come sapete è obbligata a cambiare presidente insomma c'è la questione di Abramo vice eccetera eccetera ok siamo al terzo ruolo fondamentale perché Allegri vuole un play Allegri lo vuole vuole un play davanti alla difesa vuole un regista basso lo ha proprio detto e quindi sarà sicuramente un obiettivo da perseguire il quarto ruolo è una mezzala ragazzi abbiamo un centrocampo mediocre e lo sappiamo tutti una mezzala abbiamo sostanzialmente sbolognato Ramsey anche se non ancora venduto ufficialmente sul mercato potrebbe finirci pure Artur è vero che abbiamo preso a gennaio Zaccaria che non l'abbiamo ancora visto non ce lo siamo goduti ma una mezzala ci serve ok quindi lì si parla di Pogba Gravenberge ah prima non l'ho nominato forse Pogba Gravenberge oppure alcuni sognano ancora Milinkovic Savic ma la vedo dura trattare con Lottito insomma i nomi sono questi che stanno girando ok siamo al quarto il quinto ruolo è un esterno offensivo un esterno d'attacco per diversi motivi abbiamo dato via Kuluseski forse non rinnoviamo Bernardeschi abbiamo dato via Paolo Di Bala che all'occorrenza può comunque giocare partendo da destra eccetera Quadrado all'età che ha e ancora dobbiamo capire se rinnoverà Chiesa è infortunato e probabilmente ritornerà a gennaio ok quindi insomma un esterno offensivo ci serve e siamo al quinto ruolo obbligatorio arriviamo al sesto che è un attaccante un vero e proprio attaccante ragazzi perché ritorno a dire dai via Paolo Di Bala e gli altri che ti rimangono sono Ken che è studente che comunque in prestito e che non è non è scontato che rimanga con noi adesso vedremo cercheremo di capire se la Juve vuole sedersi per ridiscutere l'accordo con l'Everton per rimandaglielo indietro e poi c'è Morata anche qua Morata capire se lo vogliamo riscattare se l'atletico accetta quello che riscattiamo e poi ovviamente il nostro Vlaovic ma noi a noi ci serve un attaccante un'altra punta il famoso panchinaro no quello che anche magari ha 35 anni ma ti deve entrare a partita in corso ti deve giocare contro l'ultima in classifica per far rifiattare Vlaovic non possiamo giocare sempre solo con Vlaovic quindi ragazzi io concludendo il discorso tanti nomi e vi ho detto attenzione non diventiamo scemi perché i giornalisti in questo momento le sparano anche un po un po nella nebbia nella confusione qualche nome effettivamente la Juventus ha iniziato a trattarlo ma la verità è quella la verità è che la Juventus ha sei ruoli vacanti che dobbiamo riempire quindi rischiamo di fare almeno sei acquisti quest'estate i soldi ci sono e la Juventus ha tutte le intenzioni di fare un'ottima squadra concludo veramente dicendovi ricordando il discorso che vi ho fatto su Dybala dando via Paolo Dybala la Juventus ha l'obbligo morale verso se stessa verso i propri azionisti verso i tifosi e gli investitori di costruire una squadra migliore di quella che aveva con Paolo Dybala altrimenti sarebbe inaccettabile ok quindi i vari raspadori Berardi Zaniolo eccetera va bene ma capite anche voi che non sono degli upgrade non sono dei nomi che scaldano a tal punto la tifoseria dicendo ah sì adesso abbiamo raspadori vale dieci volte Paolo Dybala vorrei vedere chi lo dice a parte quelli che diranno eh ma Paolo Dybala non c'è è sempre fuori sempre rotto però parlando di qualità ragazzi anche a livello di immagine serve qualcosa di più serve una spinta la Juve deve darci questa spinta lo deve fare e per questo motivo ragazzi stiamo vedendo una bomba dietro l'altra di calciomercato a marzo cosa mai vista prima perché la situazione è questa la Juventus vuole anticipare i tempi come ha fatto a gennaio clamorosamente vuole anticipare le concorrenti deve dare dimostrazione a tutti di avere il polso di avere in mano la situazione fa un po' brancolare nel buio i giornalisti e questa cosa mi diverte molto e noi come tifosi viste le cocenti delusioni sul campo e anche extra campo non ci resta che essere positivi sperare e confidare di rivedere presto un'ottima Juventus io sono molto positivo molto e ve lo sto dicendo da mesi non da due giorni eh ve lo dico da mesi è un bel momento per ti fare Juve ragazzi sopportiamo i dolori perché verrà una grande Juve torneremo grandi sicuramente in Italia in Europa è tutto un grande augurio è sempre difficile competere per la Juventus in Europa ma dobbiamo farcela i soli nomi non bastano ci vuole anche una bella guida tecnica un bel progetto tecnico che Allegri abbia chiaro il modulo che riesca a risolvere gli errori i suoi errori che ne ha commessi tanti questa stagione e allora le cose possono funzionare perché i solo i nomi da figurine tipo Paris Saint Germain avete visto che non è che paghino poi tanto ciao ragazzi e sempre forza Juve